Eeeh, bello a tutti ragazzi, un xmax e benvenuti in questo nuovissimo video, ragazzi siamo tornati, sì nuovo qua su Geometry Dash, ve lo siete meritati ragazzi, vi ricordo un altro video di Geometry Dash, 20 like perché per favore non arriviamoci, vabbè sto scherzando, mettete tutti un like, se volete che crei una playlist dovete mettere tutti i like, un like, un'iscrizione, una campanella, cercate edixmax su TikTok e su Discord, ci sono i link in descrizione, se volete fare una piccola donazione, prima il link in descrizione, tutte le donazioni sono apprezzate, vedremo chi sarà il quinto donatore della storia, vi ricordo se volete rimanere nella storia, primo link in descrizione, dato questo ragazzi vi ricordo che stasera purtroppo non potrò essere in live, quindi ci becchiamo direttamente martedì, quindi domani in live alle 20.30, dato questo ragazzi vi stupirò, il primo livello l'ho fatto ragazzi, il secondo livello l'ho fatto, il terzo livello non sono riuscito, il quarto sì, e guardate qua, il quinto ce l'ho fatto ragazzi, il quarto non ci sono riuscito, oggi proveremo a fare il terzo ragazzi, eh sì ragazzi vi devo ammettere che ho tragiardato un po', però volevo portarvi un etixmax più forte, non i, ma perché nei video, ma oh, no, no, non mi far scelerare eh, non mi far scelerare, niente, oh, niente, niente, non, oh, ma basta, non ci credo, non ci credo, niente, non vuoi, oh, raga mi sto arrabbiando, mi sto arrabbiando, no, no, mi è pure caduto il telefono dalle mani, allora, ma perché sul sole si può saltare, io mi sto arrabbiando eh, raga, io ve lo devo dire, io non parlo più raga, non ce l'ho, aspettate un attimo, saltiamo qui, saltiamo qui, e allora, ma come ho fatto a giocare così bene gli altri giorni, e adesso nel video non riesco più a fare niente, niente raga, per giocare a geometri lascia ho appena scoperto che bisogna giocarci ogni giorno, almeno un'ora, poi c'è ragazzi che hai il talento eh, per esempio, ci sono dei miei follower che tra un po' fanno l'ultimo livello che io, adesso andiamo a vedere l'ultimo livello, vediamo se riusciamo a fare almeno il 2%, allora, non ho ancora visto l'ultimo livello, adesso andiamo a vederlo ragazzi, non riesco a fare, ma è impossible, no, 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 ma perché, perché, cos'è, perché? però raga, dobbiamo ammetterlo, geometri lascia è uno dei giochi con più pubblicità che ho giocato ragazzi, proviamo a fare il dodicesimo livello raga, allora, oh, oh, ho fatto un 2%, raga, allora, niente, non riesco più a saltare, perché non riesco più a saltare? non capisco raga come si faccia, aspettate un attimo, niente, oh, ho capito, eh, 3%, lasciamo stare ragazzi, lasciamo stare, proviamo a fare il terzo livello, se no, proviamo a rifare il primo, vediamo se adesso ci riesco, se oggi ci riesco, allora, 1, 2, perfetto, raga, non mi è fatta arrabbiare, perché ce l'ho fatta, questo livello qui l'avrò fatto almeno 2-3 volte, ho tryhardtato su questo gioco, non mi è fatta arrabbiare, io non voglio più portarlo, geometri dash, mamma mia, allora, allora, ok, niente, pieno di messaggi, vabbè, raga, che vedevo di, che vedevo di, mi arrivano messaggi, allora, ci dobbiamo intanto concentrare un attimo, e, oh, mamma, no, io mi sto arrabbiando, mi sto arrabbiando, io non c'è il gioco più a geometri dash, se non arriviamo a 20 like, un altro video di geometri dash, ragazzi, non ve lo porto, so che vi piace vedere Dixmax sclerare, ma, e poi è anche carino sto gioco, ma non riesco a fare neanche il primo livello, Basta, raga, io non parlo più, adesso io voglio finire il primo livello, non stacchiamo questo video, non finiamo il primo livello, Allora, dai, saltiamo qua, è perfetto, adesso ci siamo, molto bene, ok, saltiamo qui, saltiamo qui, molto bene, togli, basta, 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 I can't, I can't do it, I can't do it, I can't do it, ragazzi, allora, vediamo se usciamo adesso, ok, ok, no, vabbè, no, no, basta, no, basta, ragazzi, ma quante pubblicità c'è su sto gioco qua, mamma mia, quanta pubblicità c'è, basta, c'è, c'è Geometry Dash, ragazzi, non è il mio, non è il mio gioco, basta, mamma mia, ma che poi, raga, l'altro giorno ci stavo giocando, le ho vinte tutte, raga, mi sono messo lì due ore, devo ammetterlo, eh, perché volevo portarvi qualche livello fatto, ma perché ora non mi ricordo più niente, eeeh, basta, ragazzi, no, no, io non ce la faccio più, raga, io non ce la faccio più, no, vabbè, io raga, questo video lo chiudo, eeeh, direi basta, direi basta, proprio basta, ciao, ci siamo visti, non ci possiamo fare niente, raga, ma questo gioco è veramente, se uno non è bravo, qua, non va bene, ma, ma, ma cosa vuol, ascoltate un attimo, ragazzi, allora, mi devo dare con una concentrata, altiamo un pochino il volume, che non sento niente, ok, adesso, adesso si sente un po' di musica, non mi sta aiutando questa musica, allora ragazzi, a me non va bene però, scusate, mmm, please, oh bella questa canzone, raga, bravo, 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 bravo Dix Max, si, bravo un fico secco, dai, allora, allora, perfetto, perfetto, ok, questa qua la vinco, raga, per voi, mi sta dando la carica, questa canzone, ok, ok ragazzi, no, 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 dai, bravo la canzone, dai, aiuto, 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 no, no, raga, dai, che mi stavo concentrando, allora, ci facciamo, ok, se, vabbè, però, ciao, eh, proviamo, adesso questa qua è l'ultima volta, raga, poi ci salutiamo, perché io non ce la faccio più, 20 like per un altro video, ragazze nostre, ci dobbiamo mettere l'asse, bah, ultima volta, basta, poi, ultima volta, no, no, questa qua è l'ultima volta, scusate, adesso me la vinco, ok, ok, molto bene, perfetto, ok, ragazzi, vai, vai, questa canzone mi porta a fortuna, questa qua è l'ultima, poi ci salutiamo, vai, ok, 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 no, scusate, ragazze, pubblicità, pieno di pubblicità, bene, ragazzi, scrivi un po' meglio, nell'altra volta, vediamo se, si può migliorare, peccato, perché, ragazzi, io ce l'avevo fatta a fare tutti questi livelli, devo ammettere che mi sono drogato, ma adesso mi sono già dimenticato tutti i trick che avevo fatto, comunque, ragazzi, vi ricordo un like, un'iscrizione, una campagna, cercate edXmax, su TikTok e su Discord, ci sono link in iscrizione, se volete fare una piccola donazione, primo link in iscrizione, vi ricordo che stasera, purtroppo, non potrò fare live, quindi ci becchiamo direttamente, domani in live, alle 20 e 30, ciao!